Sala stampa, Raffaele Senatore, siamo alla vigilia di Cavese, Sassari, Latte e Dolce con il mister Daniele Cinelli, le domande inviateci dai colleghi giornalisti tramite Whatsapp, partiamo con Ugo D'Amico, Sernosport24 e tuttocavese.com, chiede il buon pomeriggio mister e dice bisogna archiviare subito la gara di Cassino e per farlo avremo bisogno di un'ottima prestazione con il mister. La squadra sta abbastanza bene, in tutti noi prevale la voglia di rivalza, di fare le cose fatte meglio, sotto tutti i punti di vista, abbiamo voglia di riscattarci dopo la prestazione non positiva di domenica scorsa, la squadra sta molto molto bene, domani sapremo anche la anche la formazione, anche se i primi a saperlo devono essere sempre i giocatori. Anneli Vori, Sport e Materia, le dà anche lui il buon pomeriggio, dice mister la sconfitta di Cassino ha messo a nudo qualche pecca in questa squadra, Cinelli su quale aspetto ha lavorato questa settimana per porre rimedio alle situazioni che non sono andate bene in terra laziale? Ma in primis ci deve essere un atteggiamento diverso, fatto di intensità, rabbia, cattiveria sportiva e questi sono i requisiti fondamentali, quindi questa settimana abbiamo lavorato soprattutto sotto questo aspetto perché nel momento in cui questa squadra riesce ad affrontare le partite con una mentalità importante riesce a fare anche grandi cose. Mestre, racchiudo la domanda sia di Andrea Liguori che di Luca Vitale che di Orlando Savarese sulla situazione di infermeria, Megna, Mori, Ospitalece, cosa ci può dire? Oltre a Sciotti che sarà squalificato, quindi che sarà assente domani? Posso dirvi che sono tutti a disposizione, tranne naturalmente lo squalificato a Sciotti e Megna e a questi si è aggiunto Pio Vaccari che ha avuto un problema alla dottora in settimana e quindi per domani non lo avremo e Mori che ha avuto un problema alla caviglia, mentre tutti gli altri sono tutti a disposizione. Orlando Savarese pone l'ultima domanda di questa conferenza pre-match, mister Latte Dolce che se ha tantissimi gol c'è un approccio più deciso alla partita anche in avvio, quindi tornando al discorso prima un atteggiamento diverso rispetto a Cassino. Sì, affronteremo una squadra che in queste prime due partite i dati ci dicono che è una squadra che arriva tante volte davanti alla porta avversaria, riesce anche a fare diversi gol, ma nello stesso tempo è una squadra che subisce molto. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, mantenendo sempre, e lo ripeto e lo ribadisco sempre, una forma di rispetto per l'avversario, ma a prescindere da quello che faranno loro, domani dobbiamo essere noi migliori in tutto. Chiudiamo con l'ultima domanda sempre del collega Savarese della città, che le chiede mister, domani si aspetta una cavese che attaccherà per prima, che farà la partita con grande forza e rabbia? Abbiamo preparato la partita per far sì che la cavese giochi da cavese, in base soprattutto ai calciatori che noi abbiamo, alla squadra che è stata costruita, e quindi siamo chiamati, come giusto che sia, a fare una partita importante, soprattutto per atteggiamento e mentalità, nel cercare sempre di proporre gioco e di non abbattersi su un episodio negativo. Grazie a tutti.